Dopo tanta attesa, due pareggi ed una sconfitta, arriva contro il Romagna Centro la prima vittoria casalinga del San Nicolò. Finisce 3-0 per la scuola di Epifani, che festeggia così i primi tre punti in casa della stagione. Rispetto alla vittoria contro la Re Canatese, Epifani inserisce dal primo minuto Bisegna e di conseguenza De Cerchio accanto a Petronio. Nel Romagna Centro dei Giovani tutti gli occhi sono puntati su Daniele Ferri, già killer del Pineto. La gara però è soporifera per la prima mezz'ora. Il San Nicolò non trova le geometrie giuste per via di una manovra troppo lenta e neanche dalla parte degli ospiti le cose vanno meglio. Ci pensa Stivaletta, migliore tra i suoi nelle prime fasi alla Camomilla, a suonare la sveglia. Il giocatore Vastesi impegna centralmente Bussi al 29esimo. Estremo difensore provvidenziale, quando Napolano e Bisegna si ricordano di essere giocatore di qualità e sfiorano il gol con l'ex Avezzano fermato sul più bello. La rete è nell'aria e arriva grazie ad un inserimento di Stivaletta che raccoglie una palla in aria e deposita alle spalle di Bissi. La gara così si rianima e lo stesso fa Napolano che dalla distanza trova qualche minuto dopo un bellissimo gol che porta il San Nicolò a riposo sul doppio vantaggio. Di Romagna Centro fa subito entrare un attaccante, indelicato, per un centrocampista e provare così a riaprire la contesa. E' Bussaglia a sfiorare effettivamente la rete dopo pochi minuti, con un tiro a giro che finisce alto dopo una palla persa dai biancazzurri. Il San Nicolò subisce per qualche minuto, perlomeno nella fase di possesso, e poi reclama un calcio di rigore per un atterriamento in aria di traine, che però per il direttore di gara è simulazione dell'attaccante biancazzurro. Qualche istante dopo è Bisegna da calcio di punizione a sfiorare il tris per il San Nicolò. L'ex Avezzano trova finalmente fortuna il diciannovesimo, quando insacca dalla distanza alle spalle di Bissi, con il Romagna Centro che sembra ormai aver staccato la spina. Prima della fine c'è il tempo solo per vedere l'estremo ospite opporsi prima a Traini e poi a Napolano. Per il San Nicolò è il primo successo casalingo stagionale, con la squadra di Epifani che si prepara adesso per la trasferta di Campobasso. Mister, la parola giusta potrebbe essere finalmente la prima vittoria in casa, ma finalmente anche la seconda vittoria consecutiva che dà continuità dei risultati al San Nicolò. La seconda cosa che dici, la cosa importante, è che la seconda vittoria che facciamo, che ci dà modo di lavorare ancora bene in settimana e quindi è solamente un viatico per lavorare la settimana. Adesso dobbiamo stare bene concentrati, continuare a migliorare perché c'è ancora qualcosa da migliorare e vincere aiuta l'autostima a credere sempre di più nei propri mezzi. Qualcosa da migliorare come la prima mezz'ora di oggi? La prima mezz'ora di oggi sì, sapevo che incontravo una squadra di ragazzi tutti giovani che correvano e che ci potevano mettere in difficoltà, ci chiudivano gli spazi. L'havamo preparato in quella maniera e quando abbiamo iniziato a giocare fra le linee tra Bisegna e Napolano abbiamo fatto il primo gol con Stivaletta, poi la partita si è incranata come la volevamo, abbiamo fatto altri due grandi gol, potremmo fare altri gol. Sono contento della compattezza di squadra che iniziamo ad avere perché per arrivare a degli obiettivi importanti bisogna prima essere compatti e poi con le qualità che abbiamo sicuramente davanti facciamo bene. Una gara, quella odierna, una sconfitta dopo una bella vittoria contro la Iesina che però ha messo in luce i differenti valori in campo. Sì, valori che ci possono essere anche se l'agevolazione che avevamo avuto dalle nostre giocate, specialmente gli errori di passaggio incredibili che abbiamo compiuto per tutto l'arco della gara hanno sicuramente messo in discesa la partita per il San Nicolò che non aveva bisogno sicuramente di questo. Diciamo che più che vincere la San Nicolò non togliamo nessun merito perché comunque ha meritato la vittoria però è il Romagna Centro che ha perso la gara. Effettivamente oggi in campo c'eravamo poco, sia con la testa che ripeto con gli sviluppi di gioco che non siamo riusciti a portare dentro la partita perché abbiamo ripeto sbagliato è un esagerato numero di passaggi per cui non abbiamo potuto neanche giocare la partita a mio avviso.